Dopo l'esito positivo del 2019 l'Assessorato ai Servizi Sociali della Comune di Tirano e il Centro Servizi Volontariato Monza-Lecco-Sondrio aderiscono anche quest'anno alla Giorno del Dono, istituito per promuovere la cultura della solidarietà e della condivisione. Sabato 3 alle 8.30 in Piazza Marinoni i volontari della Croce Rossa effettueranno la misurazione gratuita dei parametri vitali. Domenica 11 dalle 10 alle 17 al mercatino dall'usato al porto Operazione Mato Grosso sarà possibile ricevere il materiale scolastico in buono stato donato nelle scorse settimane. Lunedì 12 alle 9 al Cinema Mignonna in programma la tavola rotonda dedicata alle esperienze di dono raccontate da chi l'ha vissuta in prima persona. Saranno proiettati anche i video realizzati sul tema dagli studenti dell'Istituto Pinchetti. Tirano, dichiara l'assessore Dorian Anatta, ha saldamente radicati i principi della solidarietà, lo si è visto durante l'emergenza sanitaria. Questa sarà anche l'occasione per ringraziare chi ha dato il proprio contributo ad alleviare i gravi disagi causati dal lockdown. La pandemia, aggiunge Massimo Pinchiroli, coordinatore territoriale di CSV, ci ha fatto scoprire più fragili. Il sentimento del dono è la nostra ancora di salvezza da mettere a disposizione dell'intera comunità.